Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buon pomeriggio cari radioascoltatori e bentrovati. Continuiamo le nostre considerazioni sui fenomeni paranormali di origine divina ma anche di origine non divina. Siamo, grazie a Dio, siamo però nella considerazione, stiamo a considerare, a prendere in esame i fenomeni paranormali di origine divina, ecco, è molto meglio, è molto più interessante, è molto più bello. E questo pomeriggio vorrei così insistere sul fatto che i fenomeni straordinari che avvengono nell'ambito cristiano sono frutto esclusivo di una iniziativa divina. Questi fenomeni non possono essere né programmati né prodotti da noi, ecco. E quello che vorrei sottolineare oggi, ecco, molto importante è anche per la nostra vita spirituale, ecco, la nostra vita spirituale che a volte così è ghiotta di cose straordinarie, ecco, e che non si accontenta della fede vissuta nel quotidiano, che è, tutto sommato, quella che ci plasma molto di più, ecco. Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento, ecco. I fenomeni paranormali, è già stato sottolineato, non sono venuti meno con la chiusura della rivelazione, cioè, con la morte dell'ultimo degli apostoli, non è che Dio abbia cessato di intervenire o direttamente o indirettamente, tramite i suoi santi, ecco, in modo straordinario nella nostra storia. No, no, assolutamente Dio ha continuato e continuerà fino alla fine dei tempi. E quando lo vuole lui, quando lo giudica opportuno, ovviamente, per la nostra salvezza, insomma. E questi fenomeni straordinari proseguono, ancora oggi, ecco, con modalità diverse, a volte con delle visioni, a volte con delle locuzioni o altre forme. E sono a volte difficili da, così, da discernere, ecco. Non è semplice sapere se questi fenomeni vengono da Dio. I criteri di discernimento sono moltetici, già lo sapete, perché lo avete sentito più volte, su queste antenne. E si tratta comunque di essere molto attento, molto prudente, come del resto loro è la Chiesa, nei confronti di qualsiasi forma di esperienza soprannaturale straordinaria. Comunque, ciò su cui voglio insistere, questo pomeriggio, è sul fatto che questi fenomeni non possono derivare da una iniziativa nostra, da una iniziativa umana. I protagonisti, così, visioni dei fenomeni straordinari, ecco, che si sono manifestati, che sono avvenuti dopo la chiusura della rivelazione, ecco, i protagonisti concordano tutti nel confessare la loro incapacità a provocare questi fenomeni ad arte e anche la loro incapacità a sottrarvisi, pur cercando di sottrarvisi. Per esempio, Teresa di Gesù, a un certo momento, scrive nella sua autobiografia, la vita, un libro interessantissimo, ecco, è pieno di, così, di insegnamenti che sono preziosi per la nostra vita spirituale. Tutti dovrebbero leggere i grandi dottori della Chiesa, i dottori spirituali della Chiesa, tra i quali c'è anche Teresa di Gesù, Teresa di Avila, Teresa di Gesù Bambino, c'è Giovanni della Croce, ce ne sono degli altri. Allora, Teresa di Gesù dice, rimasi così quasi due mesi, facendo quanto potevo per resistere ai doni e alle grazie di Dio, le grazie straordinarie, si intende, visioni, estasi anche. Quanto più cercavo di distrarmi, tanto più il Signore mi avvolgeva di sua vita e di beatitudine, tale che mi sembrava di esserne completamente circondata, e di non poterne uscire da nessuna parte, come infatti era. C'è l'anonima religiosa che, autrice depositaria del cosiddetto manoscritto del Purgatorio, supplicò la consorella defunta, che si rivolgeva a lei, per, ovviamente, per una disposizione misteriosa di Dio, perché non è abituale una cosa del genere, e soprattutto non può essere provocato, come fenomeno non era una seduta spiritica, ovviamente, supplicò la consorella defunta di non manifestarsi più, moltiplicando preghiere, penitenze, devozioni, per ottenere tale grazia. A proposito, ah sì giusto, volevo ricordare che chi vuole seguire questo discorso che sto facendo, ecco, lo trova nel mio libro Carismatici, Sensitivi e Medium. Il sottotitolo è I confini della mentalità magica. Ripeto, Carismatici, Sensitivi e Medium. I confini della mentalità magica. Edito alle edizioni studio Domenicano, ESDA, di Bologna. A proposito dell'iniziativa divina, siamo a pagina 399 di questo libro, le seguenti parole di Teresa Davide rivestono un valore universale. Questo, dice lei, accadde, siamo sempre nella sua autobiografia, accadde in tutte le visioni. Noi, nessuna esclusa, noi non possiamo far nulla, e i nostri sforzi sono del tutto inutili, sia per vedere di meno, sia per vedere di più. Il Signore vuole farci capire chiaramente che questa non è opera nostra, ma è una grazia Sua. Così potremmo avere molto minor superbia, anzi, il fatto di considerare come il Signore ci toglie la possibilità di vedere ciò che vogliamo, ci può togliere questi Suoi favori e questa Sua grazia, lasciandoci completamente abbandonati, ci fa essere umili e pavidi e ci esorta a procedere con timore finché viviamo in questo esilio. Giovanni della Croce, nella sua salita al Monte Carmelo, dice la stessa cosa, per esempio riguardo alle parole sostanziali, sono delle locuzioni ma senza parole, è come se fossero delle idee, dei concetti, che ci venissero in mente nell'anima, ecco, che ovviamente non sono prodotti da noi e che pur non essendo così delle parole pronunciate in modo abituale, come se sorgessero ecco dalle profondità dell'anima, ma vengono da Dio in realtà, ecco, queste parole sostanziali però rimangono impresse, molto impresse in chi le riceve. Sono delle grazie mistiche molto potenti. Allora, Giovanni della Croce, riguardo a queste parole sostanziali, dice, nella sua salita al Monte Carmelo, l'anima non si deve preoccupare di volerle o non volerle, in quanto non c'è bisogno della sua volontà, onde Dio le conceda, né è sufficiente il suo non volerle a impedire che esse producano il loro effetto. Si comporti con rassegnazione e umiltà. Molto semplice. Se vengono, le devi accettare. Però Giovanni della Croce, altrove, dice, sì, accettarli però senza darvi troppo peso. Se poi vengono da Dio, produrranno senz'altro il loro effetto. Questo è, dice Giovanni della Croce. Cioè questo, Giovanni della Croce, molto attento, vuole che il cristiano segua una via ordinaria. E quando il cristiano viene visitato da grazie straordinarie, lui consiglia di non dare a queste grazie troppo peso. Perché, appunto, beh sì, c'è sempre la possibilità dell'inganno diabolico, ecco, e lì bisogna verificare, ma soprattutto perché se vengono da Dio, produrranno il loro effetto spirituale, si intende, anche se il recipiente, cioè il mistico, che riceve queste grazie straordinarie, non ci dà molto peso. Quindi, dice Giovanni della Croce, con rassegnazione, se vengono, beh, bisogna prenderne atto, e con umiltà. Umiltà vuol dire, si riferisce al fatto che non le dobbiamo assolutamente cercare. Dobbiamo camminare, come dicevo prima, ecco, giorno per giorno, assieme al Signore, e nell'oscurità della fede. Prendiamo ora brevemente in esame le ragioni per cui va escluso l'intervento di requisiti o elementi naturali del paranormale post-biblico. Cioè, questo paranormale cristiano post-biblico, si intende, non esige nessun requisito, contrariamente a quanto avviene per la medianità, i medium sono delle persone che sembrano avere delle predisposizioni, coltivano addirittura la loro medianità, cercano di provocarla, eccetera. E beh, per le grazie straordinarie, nulla di tutto ciò, assolutamente. E per vari motivi. Prima di tutto perché queste grazie non sono frutto di fantasia, poi non sono ricercate, poi giungono all'improvviso, senza così che le possiamo programmare. Allora, non sono frutto di fantasia, di allucinazioni, di suggestioni. E questa è una prima caratteristica di queste grazie straordinarie che provengono dall'aldilà. I fenomeni immaginari naturali, lo sappiamo, nascono per associazione di idee, scaturiscono da una elaborazione della mente, anche dal desiderio, perché, insomma, vengono desiderate queste idee che sulle quali, ecco, si cerca di, così, di influire, insomma, o di produrre. Dice Teresa di Gesù riguardo a questo desiderio nel castello interiore alle seste mansioni, dice Quando il desiderio è vehemente, la stessa persona si figura di vedere e udire quello che desidera, come avviene a coloro che sognano di notte e ciò che di giorno hanno molto pensato e desiderato. Beh, guardate, quando le cose vengono da Dio non possono essere fantasticate, immaginate, programmate, non possono nascere per associazioni di idee non possono essere elaborate dalla mente, dal desiderio, da un bisogno, da un'attesa. Beh, no, queste cose avvengono e durano fin tanto che, cioè, avvengono senza tutto ciò. Invece, quando siamo a livello naturale, a livello di, così, di fantasia, beh, queste fantasie durano, finché la nostra attenzione si polarizza su queste fantasie. In questo caso è il soggetto che è l'autore di queste fantasie, è lui che le gestisce. Qui, invece, nelle grazie straordinarie, nulla, ripeto, di tutto ciò. Sempre nel castello, alle seste mansioni, Teresa di Gesù, dice, ben che assai di frequente rispondano ai pensieri che a un tratto ci passano allora per la mente, o a quello che si è pensato prima, spesso, queste grazie straordinarie, riguardano cose mai pensate, né credute possibili. pertanto non potrebbe fabbricarle l'immaginazione per ingannare l'anima, facendole credere ciò che non ha mai desiderato, né voluto, né conosciuto. Per cui, guardate, queste cose non possono essere farina del nostro sacco, poco ma sicuro, insomma. e poi le cose diventano ancora meno frutto della nostra fantasia quando questi fenomeni straordinari avvengono con una simultaneità ecco, presso molti molti percepienti mistici leggenti ecco, quando cioè questi fenomeni si verificano contemporaneamente, simultaneamente in molte persone beh, ancora più azzardata priva di fondamenti quindi la spiegazione parapsicologica o patologica no? e pensiamo sì ai veggenti di la Salette siamo nel 1846 ma pur a quelli di Pontmain in Bretagna siamo nel 1871 di Fatima nel 1817 di Borin 1933 in Belgio riguardo poi a Međugorje i medici non necessariamente credenti si riferiscono di appunto ve l'ho già detto mi pare una volta ecco di sincronismi o di movimenti o gesti che i veggenti durante l'estasi compiono in modo perfettamente sincronizzato e questo evacua qualsiasi possibilità di messa in scena di trucco perché appunto le reazioni sono così simultanee così sincronizzate che non possono essere il frutto di un accordo previo di una messa in scena ecco da parte di queste persone poi non parliamo ancora di bambini non ancora nell'età della ragione che reagiscono di fronte all'apparizione come risulta dagli atti di Pomer in Bretagna ecco per cui non possono essere frutto di fantasia queste cose non possono essere farina del sacco del nostro immaginario poi appunto non sono ricercati questi fenomeni se sono ricercati guardate non verranno sicuramente oppure oppure sarà il demonio ad accontentarci e a trascinarsi lontani dalla fede facendoci provare e vedere delle cose straordinarie straordinarie ecco che soddisferanno che verranno a soddisfare il nostro desiderio di straordinario no e poi lui ci allontanerà dalla fede ecco con queste cose cioè se noi ricerchiamo lo straordinario siamo già su una strada sbagliata e lo straordinario ripeto se avviene deve avvenire solo per iniziativa divina la nostra vita cristiana la nostra vita cristiana è una vita di fede e la fede lo dice bene la lettera agli ebrei è delle cose che non si vedono non si dimostrano non si toccano per mano la fede è consiste nell'accogliere ciò che mi dice un altro cioè Dio ciò che lui mi dice nella rivelazione custodita e trasmessa dalla chiesa attraverso i secoli no e questa è la fede ed è questo che ci fa crescere carissimi non sono i fenomeni straordinari che ci fanno crescere soprattutto se li ricerchiamo se Dio ce li concede ovviamente è perché ha un motivo allora può darsi che ci voglia scuotere in qualche modo o affidarci una missione non è escluso questo però però la strada la vita cristiana ordinaria è quella della fede e questo è così che noi cresciamo per cui non dobbiamo stare lì ecco a correre a destra a sinistra alla ricerca di fenomeni straordinari dobbiamo cercare di vivere ogni giorno alla presenza del Signore una presenza ovviamente che non è toccata per mano ma è creduta quando io prego di fronte non so al Santissimo io non vedo il Signore però so sono certo che il Signore è presente nell'Eucharistia la certezza una certezza che è sopranaturale e questo che fa sì che io davvero possa affidarmi sempre di più al Signore e quindi crescere invece se io cerco dei segni Gesù dice a un certo momento questa generazione cerca dei segni vuole delle cose straordinarie ecco per così per credermi invece no dice lui io ho parlato e ho fatto ho prodotto anche dei segni ho fatto dei miracoli eccetera per quale motivo chiederne di continuo questo è il suo ragionamento noi effettivamente dobbiamo fidarci a lui non dobbiamo cercare di sfuggire alla nostra vita di fede ordinaria e quella vi ripeto che ci fa davvero crescere allora la responsabilità la notorietà e non di rado la pericolosità insite nella missione profetica o carismatica escludono che essa venga ambita o ricercata dai protagonisti questo vale pure per i favori mistici straordinari come le locuzioni le visioni che giungono addirittura indesiderati sia per il loro carattere spesso improvviso e travolgente come nel caso dei rapimenti sia per il pericolo come accennavo prima di un inganno diabolico questo Teresa di Gesù ecco quante volte ha supplicato il Signore di così di non rapirla di non mandarla in estasi soprattutto davanti ad altri ecco per cui lei era molto a disagio di queste cose voleva una vita cristiana vissuta ecco nella discrezione e non essere al centro dell'attenzione con questi fenomeni grandiosi di cui lei stessa era protagonista e questo proposito diceva Teresa di Gesù parlando sempre lei parla in terza persona nel suo libro e nelle sue opere e quando fa degli esempi dice una persona ecco ebbe tale o tale esperienza ovviamente quella persona è lei è lei stessa però non lo dice era allora così quella persona questa terza persona era così paurosa che a volte non usava restare sola neanche di giorno ne era profondamente afflitta temendo che si trattasse di un inganno del demonio mi pare di avervi già detto che i leggenti di la Salette Melania e Massimino hanno una reazione iniziale di spavento quando la Madonna appare loro per la prima volta e mettono persino mano ai bastoni la regente di Lourdes Bernadette addirittura arriva con il sacchiello di Acco Benedetta per la seconda apparizione ecco tanto per così per verificare se quella figura quella persona che le appariva non fosse un un travestimento del demonio insomma inoltre l'inseguire o il semplice desiderare comunicazioni sopranaturali straordinarie viene ricondotto dagli stessi mistici a cito Giovanni della Croce temerità presunzione curiosità principio di superbia radice e fondamento di vana gloria disprezzo delle cose di Dio e causa di numerosi mali a cui molti andarono incontro cioè la ricerca di questi fenomeni la ricerca attiva il desiderare queste cose ecco alimenta la vana gloria ma chi sei tu ecco per desiderare delle cose straordinarie di questo tipo perché non cerchi di vivere ecco nella quotidianità la tua fede ecco affidandoti appunto al Signore alla Sua parola e poi cercando di voler bene le persone che ti circondano altro altro che cercare ecco dei favori straordinari questo sì che ti ti fa crescere poiché la rivelazione si era ormai si è ormai conclusa la richiesta di ulteriori comunicazioni come avveniva nell'antica alleanza è un ingiustificabile tentare Dio nella rivelazione carissimi c'è tutto tutto e se si verificano delle rivelazioni private queste rivelazioni private non servono ad altro che ad aiutarci ad approfondire la rivelazione contenuta nella Bibbia e trasmessa dalla Chiesa attraverso i secoli cioè di per sé c'è tutto lì dentro se poi appunto si verifica una rivelazione privata un fenomeno straordinario ecco provocato da Dio beh questo fenomeno straordinario ci è offerto semplicemente per aiutarci a ritornare in maniera ancora più profonda decisa alla grande rivelazione alla parola di Dio è questo che così siamo chiamati ad approfondire cioè la parola di Dio quella che è contenuta nella Bibbia allora la richiesta quindi di ulteriori rivelazioni è dicevo prima un ingiustificabile tentare Dio e appunto anche questo accennato ci espone al rischio dell'inganno diabolico ma anche a quello della compiacenza della vana gloria come dice Giovanni della Croce della golosità spirituale rischi che si possono evitare omettendo appunto di ricercarle queste cose attivamente pur riconoscendo la loro valenza santificante e trasformante va comunque puntualizzato che questi fenomeni straordinari soprattutto le comunicazioni con l'aldilà ecco che provengono da Dio le rivelazioni private le visioni le locuzioni non rappresentano però un indice sicuro di salvezza cioè non è perché uno ha queste visioni che possa dire beh io mi salverò senz'altro ecco no no tu ti devi salvare se ti converti cioè non sono necessarie alla salvezza e non sono un indice di santità o di salvezza dice Santa Teresa di Gesù non devono pensare che una sorella perché favorita da grazie di tal genere sia migliore delle altre il Signore conduce ciascuna come gli sembra necessario ci sono infatti molte anime sante che non hanno mai saputo cosa sia ricevere una di queste grazie straordinarie ed altre che le ricevono e non sono sante perché è possibile questo cioè non è detto che la conversione vada di pari passo con dei fenomeni straordinari uno questi fenomeni li può vivere in una maniera sbagliata e appunto può essere diventare vanaglorioso e corgolioso per quello che dice che gli accade e che appunto non sembra accadere agli altri a me accade perché sono bravo e agli altri non accade perché non sono bravi ecco quello che potrebbe pensare uno ecco per cui guardate noi ci dobbiamo affidare a Dio e basta se poi lui decide un giorno di concedere delle grazie straordinarie beh lo ringraziamo non c'è dubbio però non sono indispensabili alla nostra salvezza assolutamente non lo sono e anzi Teresa di Avila dice che addirittura coloro che sono visitati da grazie straordinarie ecco non sono delle non sono delle anime forti rivolgendosi riferendosi alle persone che non hanno delle grazie straordinarie Teresa di Avila ecco precisa Dio vi vuole trattare da anime forti dandovi da portare qua giù la croce come sua maestà stessa l'ha sempre portata e quale amicizia migliore di volere per voi ciò che egli volle per sé potrebbe anche essere che non aveste un così grande premio nella contemplazione di conseguenza le grazie straordinarie non scaturiscono dal merito ma piuttosto il contrario l'anima che ne è priva dice Teresa di Avila sempre può essere che abbia molto maggior merito perché il lavoro è tutto a sue spese nel castello interiore lei prosegue dicendo per il fatto di ricevere molte grazie di tal genere non si merita più gloria ma si è invece più obbligati a servire Dio proprio perché si riceve di più per quanto riguarda l'acquisto di maggiori meriti il Signore non ce ne togli la possibilità tale acquisto è in mano nostra dice lei a questi motivi per rifuggire dalle grazie straordinarie se ne aggiunge uno più terra a terra ma di notevole peso coloro che sperimentano queste grazie straordinarie sanno che sono generalmente accompagnati da sofferenze questo Teresa di Avila lo puntualizza ecco dice che è a prezzo di moltissime sofferenze averle dal Signore anche una sola volta le persone che sono visitate da queste grazie sono chiamate poi a un certo momento a dare di più e quindi a pagare un prezzo maggiore ecco non è ovvia la cosa insomma per cui se uno non è forte rischia di rischia di soccombere ecco sotto il peso di queste grazie straordinarie ecco i travagli sono i travagli che accompagnano queste grazie straordinarie ecco a volte derivano dal fatto che dei veggenti richiedono di offrirsi in riparazione dei peccati per la conversione dei peccatori pensiamo al 13 di maggio del 1917 ecco la richiesta fatta ai bambini di Satima ecco di Fatima una richiesta che lo sappiamo porterà la morte prematura di due veggenti così si sacrificano è drammatica questa storia davvero si sacrificano per la salvezza delle anime poi non parliamo della scelta di una vita di nascondimento da parte di Suor Lucia che nonostante il fatto che sia stata posta al centro dell'attenzione così grazie tra virgolette a queste apparizioni beh Suor Lucia ha deciso di sottrarsi agli occhi di tutti e di entrare in clausura e quindi una vita di totale nascondimento non diventa una superstar assolutamente ma così si ritira per pregare ecco lontano dagli occhi di tutti per accedere a Suor Lucia ci voleva un permesso non solo della sua superiore della sua priora ma anche della santa sede tanto per farvi capire come era protetta ecco questa questa questo come era protetto questo isolamento di Suor Lucia quindi guardate che non sono non sono delle prove di poco conto ecco che accompagnano queste visioni questi fenomeni straordinari senza parlare delle notti che attraversano i mistici anche in ogni modo tutti questi motivi messi insieme però devono portare a rifiutare in modo indiscriminato le grazie straordinarie o addirittura a così vederci qualcosa di negativo assolutamente se ci sono sono sempre un dono di Dio da accogliere ma il discorso è che non devono essere ricercate non sono quelle grazie straordinarie che sono le principali responsabili della nostra crescita spirituale e della nostra salvezza questo è il discorso quindi non disprezzare vedete che l'equilibrio non è semplice non disprezzare ma non ricercare con l'umorismo che caratterizza Santa Teresa di Avila lei dice sembra che ad alcune persone faccia spavento anche solo dire il nome di visioni o di rivelazioni non capisco la causa per cui ritengono così pericoloso questo cammino attraverso il quale Dio conduce le anime né da dove proceda questa paura cioè guardate dice Santa Teresa di Avila scusate quando questi fenomeni avvengono bisogna accoglierli come provenienti da Dio insomma e chi ne sente parlare non si deve subito spaventare come se venisse dal 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 demonio insomma la ragione quindi di questa apertura verso le comunicazioni straordinarie le grazie straordinarie sta proprio nella loro utilità cioè se Dio se Dio li suscita li suscita questi fenomeni straordinari perché hanno una loro utilità in certi casi non sono per tutti però per alcuni hanno una utilità sia unitiva o mistica cioè uniscono i protagonisti maggiormente a Dio o perlomeno possono unirsi maggiormente a Dio e hanno una utilità anche carismatica cioè questi questi grazie a volte servono non solo o non principalmente per la santificazione dei protagonisti ma per la santificazione della Chiesa per cui oh senz'altro la stessa Teresa di Avila ecco è riuscita ad affrontare tutte le prove della sua vita alle lotte alle quali è stata sottoposta ecco le così le opposizioni proveniente anche dalla gerarchia beh sono queste grazie straordinarie che l'hanno anche sostenuta ecco proprio perché aveva un carico molto pesante da portare ecco lo stesso Giovanni della Croce è sempre molto guardingo ipercritico quasi di fronte alle locuzioni e alle visioni nega che possano in certi casi precisi contribuire alla crescita della vita soprannaturale di qualcuno e all'utilità comune l'atteggiamento giusto comunque consiste dice lui nel nel non dare peso nel non dare peso e come accendavo prima se se vengono da Dio produrranno sicuramente il loro effetto dice San Paolo della Croce queste visioni e le azioni più sono frequenti più sono sospette pertanto è ottimo il ricacciarle sempre e cacciarle con costanza se sono da Dio anche se si cacciano faranno il loro effetto bene mi fermo qui e lascio spazio ai vostri interventi a Sì, pronto? Buonasera, il mio nome è Fabio. Non c'è contraddizione tra queste due cose? C'è partecipare alla messa e poi svolgere la castomanzia? La seconda domanda invece è questa. Le preghiere che recitiamo per un determinato fine, per ottenere un determinato aiuto e che invece non hanno quell'effetto che noi speriamo che abbiano, quale fine fa hanno? Vengono perse nel nullo oppure comunque vengono in un certo qual modo utilizzate da Dio? La ringrazio, l'ascolto per radio. Sì, allora il caso del cartomante che viene a messa regolarmente e che addirittura si comunica. Non so se fa ridere o fa piangere perché è una contraddizione tremenda questa persona. Ma o si vuole, vuole attraverso questo suo gesto, vuole rassicurare la gente al suo riguardo, far credere alla gente che è una persona pia, eccetera, quindi non ha nulla da temere venendolo a consultare. Oppure è un incosciente, non si rende conto che il partecipare alla messa dove la grazia di Dio ci viene donata, si oppone, è in opposizione così frontale con l'esercizio della cartomanzia. Perché la cartomanzia, come dice bene il Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, è una forma di divinazione mediante la quale ci si sottrae a un atteggiamento di fiducia in Dio. Si vuole sapere il futuro, si vuole conoscere le cose nascoste, occulte, che invece devono essere abbandonate a Dio. Per cui si tratta di una contraddizione incredibile. Io non so se il parroco, il sacerdote celebrante, sia al corrente della presenza di questo cartomante. Forse, se lo fosse, farebbe bene ad avvicinarlo e dirgli qualcosina, insomma, no? Perché, appunto, siamo fuori, ma completamente fuori, ecco. Quello che potrebbe ricevere dalla messa lo perde e lo rinnega con il suo comportamento concreto, insomma. Vedete, l'ambito della messa è l'ambito della grazia. La grazia, cioè di quelle cose che noi riceviamo gratuitamente, come diceva, ci andavo prima, senza averle provocate, senza essere in grado di provocarle noi. Invece, la cartomanzia non è l'ambito della grazia, è l'ambito della tecnica, per cui io, attraverso dei trucchi, delle scorciatoi, ecco, penso, pretendo, pretendo di conoscere o di accedere a delle cose nascoste o future. Poi, riguardo alla preghiera, ecco, Fabio diceva che capita di pregare e di non essere esaudito. Allora, cosa avviene di queste preghiere? Sono perse, chiedeva Fabio. Beh, prima di tutto, Fabio, guarda, non sei il solo a vivere, a fare questa esperienza. Penso che è un'esperienza che facciamo tutti. E la preghiera è una realtà misteriosa, perché sì, noi siamo chiamati a pregare, Gesù ce lo dice, pregate e otterrete. Cioè, noi seguiamo effettivamente un invito esplicito di Gesù, per cui sarebbe illecito aspettarsi degli effetti concreti che noi abbiamo in mente, ecco, della preghiera. Però non sempre è così. Però, dobbiamo capire prima di tutto che Gesù dice che dobbiamo pregare il Padre nel suo nome, cioè, ovviamente, affidandoci alla sua volontà. Noi dobbiamo cercare di capire se quello che noi chiediamo rientri nella volontà di Dio. A volte noi, ecco, chiediamo delle cose che non rientrano nella volontà di Dio. Però, quel che volevo dire in ultima analisi, la cosa più importante da sottolineare è questo. Se noi preghiamo con fede, beh, anche se la preghiera nostra non raggiunge l'effetto concreto, esplicito, quello che avevamo in mente, insomma, che noi desideravamo raggiungere, se non lo raggiunge, non vuol dire che la nostra preghiera sia stata inutile, perché la preghiera non è mai inutile se fatta con fede, cioè produce sempre un effetto, anche se non è quello che ci aspettiamo. Cioè, si può pregare per la guarigione di una persona, e questa guarigione non avviene, però in compenso questa persona nell'affrontare la malattia, ecco, non solo si converte, ma dimostra di essere sostenuta da una forza, una serenità grandissima. E questo è una grazia, in un certo senso, anzi, molto più importante della stessa guarigione fisica. Cioè, qui è stata utente la guarigione dell'anima. Certo, quella persona avremmo avuto piacere di vederla continuare a vivere al nostro fianco, però è morta. Però, sì, è morta in quale modo? Nelle migliori disposizioni e quindi, quindi, se abbiamo fede, dobbiamo essere contenti. Pronto? Buonasera, padre. Mi chiamo Graziella e telefono da Frosinone. E lei mi ha tolto mezza spina dal cuore con questa sua catechesi meravigliosa, ma veramente toccante. Dunque, ecco, volevo dire questo. Grazie. Io sono su un cammino di conversione da quasi sette anni e la mia preghiera va sempre aumentando. Io penso proprio che sia un dono, perché proprio io non mi stanco mai di pregare e non lo sento come un dovere, no? È come un desiderio forte, è come se, che dire, se Dio avesse bisogno di me, io lo so che Lui non ha bisogno di me, però, proprio gli dedico molto tempo, ma molto volentieri, la mattina, la messa, l'eucaristia, l'adorazione prolungata. Ora, quando prego, quando adoro, così a cuore aperto, no? A cuore a cuore, mi viene certe volte il desiderio di dire a Gesù, proprio così, a mezzo metro di distanza, dico, forse Gesù qualche volta ti farai vedere, e poi mi viene subito il timore di Dio, come se io avessi azzardato a chiedergli qualcosa di troppo e allora gli dico subito, ma no, dai, non ti preoccupare, non ti preoccupare, mi sta bene così, anche perché tu stesso hai detto, beati coloro che crederanno senza aver visto, e però poi gli dico, però una cosa te la chiedo, il dono della preghiera, non me lo togliere, perché, perché niente, sto bene, e quasi quasi mi sembra che questo dono, cioè, mi fa sta bene troppo me, mi sento quasi indegna di questa grazia, io non so come spiegarglielo. Ho capito, la ringrazio molto, di questo suo intervento, è molto prezioso, effettivamente. Guardi, sì, senz'altro, la sua preghiera è un dono, come dice lei, non c'è dubbio. Non è detto, però, che sarà sempre così, forse un giorno verrà in cui farà fatica a pregare, e pregherà in una maniera meno sentita, tra virgolette, una maniera che non le dà più le gratificazioni di prima, per cui dovrà affidarsi di più alla volontà, e le sembrerà, ecco, che Dio si sia ritirato, le sembrerà che Dio non le vuole più bene, invece è tutto il contrario, perché Dio, se questo dovesse avvenire, se questo dovesse avvenire, ecco, beh, Dio attraverso questa prova, perché è sempre una prova, ecco, la vuole chiamare una fede ancora più, più profonda, eh, per cui, ringrazio Dio, di questo dono, della preghiera, sentita, ecco, e, vissuta volentieri, come ha detto lei, e lo ringrazio tanto, 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 però non si stupisca se un giorno, questo dono, debba apparentemente, ridimensionarsi, o addirittura, scomparire, ma, se, se, ripeto, ciò dovesse avvenire, non si creda assolutamente, abbandonata, da Dio, è tutto il contrario, anzi, è Dio che la chiama, ha qualche cosa di più, ancora più profondo, e di più importante, poi, eh, lei dice, qualche volta, quando prego, ecco, esprimo il desiderio a Gesù, di, che si faccia sentire, o vedere, eccetera, poi dopo, dopo, ecco, eh, viene colta da un sacro timore, ecco, e, poi, no, non devo chiedere questo, eccetera, è un atteggiamento giusto, eh, è un atteggiamento giusto, non è presunzione, come, eh, il modo con cui vive, ecco, questo, questo desiderio, non è presunzione, se accompagnato da timore, senz'altro, e soprattutto, se questo desiderio, è, eh, dettato dall'amore, no, quando si ama una persona, beh, è normale volerla vedere, volerla sentire, volerla toccare, è normale, normale, e, però, appunto, come dice lei, eh, questo nostro desiderio, deve essere sempre accompagnato da timore, perché, in ultima analisi, chi sono io, ecco, per pretendere, o solo desiderare, una cosa del genere, quindi, la ringrazio molto, per questa sua, questo suo interesse, intervento. Ecco, la regia mi informa, che purtroppo, il tempo è scaduto, ecco, e, che è l'ora di passare, alla preghiera, che, tutto sommato, è ancora, fatto ancora più, essenziale, costruttivo, per cui, eh, vi saluto, ancora una volta, ecco, con, così, con affetto, vi ringrazio per la vostra fedeltà, che il Signore accompagni ognuno di voi, e, soprattutto, che vi ricolma di grazie, ecco, nella prossima, solennità, ecco, della Pentecoste, ormai ci siamo, ecco, che davvero ci sia, su tutti voi, anche spero, su di me, ecco, una, così potente, effusione abbondante, effusione dello spirito, ecco, perché plasmia la nostra anima, davvero, ecco, la renda sempre più simile a quella di, di Gesù, e, quindi, che il Signore vi benedica, in questo senso, e, come sempre, vi chiedo la grazia, e la carità, di un'ave Maria, ecco, detta la Madonna, se volete, ecco, secondo le mie intenzioni, ne ho sempre molto bisogno, e vi sono sempre molto riconoscente, per questo dono, e, se Dio vuole, ci risentiamo fra un mese, arrivederci a tutti. Grazie.